In questo video vediamo come calcolare la distanza tra due punti, note le coordinate sul piano cartesiano. In particolare vediamo come ricavare la formula, ed è molto semplice, tant'è che nessuno se la dimenticasse la può ricavare facilmente in modo autonomo. E poi vediamo tre esempi. Cominciamo dai due casi più semplici, cioè come calcolare la distanza tra due punti che abbiano la stessa ordinata, ovvero i due punti sono su una retta parallela all'asse x, oppure due punti che abbiano la stessa scissa, cioè già sono su una retta parallela all'asse y. Le formule sono pressoché immediate, perché per sapere quante unità ci sono tra a e b è sufficiente sottrarre l'ascissa di b dalla scissa di a. Avrete notato che nella formula c'è anche il valore assoluto, perché a livello generale noi non sappiamo se è più grande x di b o x di a, e quindi mettendo il valore assoluto il risultato verrà positivo anche se avessimo fatto il più piccolo meno il più grande. E questo è utile quando le coordinate cartesiane sono dei parametri. Se invece abbiamo i valori numerici o sappiamo qual è l'ascissa più grande, allora è sufficiente fare il più grande meno il più piccolo e si può anche omettere il valore assoluto. Ad esempio, se l'ascissa di b vale 6 e l'ascissa di a vale 2, la lunghezza del segmento a b è uguale a 6 meno 2, cioè 4, come si può anche osservare contando i quadretti. Se invece i due punti hanno la stessa ascissa, si procede in modo analogo facendo la differenza delle ordinate. Ad esempio, se l'ordinata di b è 3 e l'ordinata di a è meno 1, la lunghezza del segmento a b è uguale a 3 meno meno 1, che fa 3 più 1, cioè 4. Qui in alto ho riportato le formule che abbiamo appena ricavato e adesso veniamo al caso più interessante, cioè il caso in cui a e b non abbiano né stessa ascissa e né stessa ordinata. Come si può notare dalla figura, tracciando le parallele agli assi cartesiani passanti per a e b, queste individuano, col segmento della distanza, un triangolo rettangolo, la cui distanza è l'ipotenusa. E questo ci suggerisce di applicare il teorema di Pitagora per calcolare la lunghezza del segmento a b. Ricordiamo infatti che in un triangolo rettangolo l'ipotenusa a b è uguale alla radice quadrata di un cateto alla seconda più l'altro cateto alla seconda. Ma sfruttando questo punto c, che avrà la stessa ascissa di b e la stessa ordinata di a, per calcolare le lunghezze dei cateti possiamo utilizzare le formule precedenti. Quindi il segmento a b è uguale alla radice quadrata del segmento a c alla seconda, cioè x di b meno x di a alla seconda, più il segmento c b alla seconda, cioè y di b meno y di a alla seconda. E questa è appunto la formula della distanza tra due punti, che non è altro che lo sviluppo del teorema di Pitagora. Notate che nel fare la differenza dell'ascissa e la differenza delle ordinate non ho più messo le barre di valore assoluto. Questo perché queste differenze sono elevate alla seconda e come è noto elevare alla seconda rende il risultato sempre positivo e quindi le barre di valore assoluto sarebbero superflue. Ti propongo tre esempi come esercizio, calcolare il segmento a b e il primo a coordinate intere, poi il segmento c d dove l'ordinata è frazionaria e infine il segmento p q dove compaiono dei radicali tra le coordinate dei punti. Se vuoi prima provare per conto tuo metti in pausa, tra poco vediamo i risultati. Per quanto riguarda il segmento a b notiamo che hanno la stessa ordinata, e quindi è sufficiente fare la differenza dell'ascissa. Quindi 2 meno meno 3, cioè 2 più 3, che fa 5 in valore assoluto che è sempre uguale a 5. Anche a mente si poteva intuire che la distanza tra meno 3 e 2 è di 5 unità. Vediamo il secondo esempio. c e d non hanno né stessa ascissa né stesse ordinate, quindi dobbiamo utilizzare la formula completa. xd meno xc più yd meno yc. Tra l'altro faccio notare che scrivere xd meno xc o al contrario xc meno xd è la stessa cosa, perché poi sarà tutto elevato alla seconda e quindi il risultato sarà comunque positivo. Quindi sostituendo i valori abbiamo meno 2 più 3, che fa 1, alla seconda è sempre 1, più 5 quarti meno un mezzo, che fa 3 quarti alla seconda 9 sedicesimi. Sommiamo, 1 è uguale a 16 sedicesimi, quindi 16 più 9 fa 25 sedicesimi, che è sotto radice da 5 quarti. Veniamo all'ultimo esempio. pq è uguale alla radice quadrata di xq meno xp alla seconda, più yq meno yp alla seconda. Sostituendo abbiamo 2 radice 5 meno radice 5 alla seconda, più meno 3 più radice 5 meno 2 meno radice 5 alla seconda. 2 radice 5 meno radice 5 fa semplicemente radice 5, esattamente come 2 mele meno una mela fa una mela, quindi radice 5 alla seconda, che è uguale a 5. Nella seconda parentesi, radice 5 meno radice 5 si lidono, quindi meno 3 meno 2 da meno 5, che elevato alla seconda fa 25, cioè radice di 30, che è un numero compreso tra 5 e 6. Abbiamo terminato, ma per altri video di geometria analitica ti lascio la playlist in evidenza. Ciao e grazie!